Il DDL Scuola è arrivato in Senato e adesso alla Commissione Cultura si sta leggendo il testo approvato dalla Camera. La minoranza del PD in capo a Corradino Mineo ha evidenziato quello che già io avevo detto in più circostanze pubbliche che il DDL Scuola del governo Renzi non è altro che il Jobs Act della scuola pubblica. Effettivamente sono norme che mettono un preside che è considerato un preside padrone che accentra tutti i poteri sulla sua persona per tenere sotto controllo i docenti e gli insegnanti. Dunque verrà meno la libertà di insegnamento, si potrà perdere molto facilmente anche la titolarità nell'istituto ed entrare negli albi professionali facendo sì che il docente diventi molto flessibile, flessibile per fare un pendolo composto tra organico di diritto e organico funzionale. Potrà essere spostato a livello regionale qualora vada in soprannumero, addirittura in esubero e non più solo in ambito comunale o provinciale. Dunque una razionalizzazione delle risorse umane che va a risparmiare economie e questa è la razza del DDL scuola. Un DDL scuola che non ha per nulla nel suo fondamento un aumento dell'autonomia scolastica ma è una nuova, come dice giustamente anche Corradino Mineo, senatore del PD, un nuovo accentramento dei poteri attraverso il dirigente scolastico che ne rappresenta il potere del governo centrale. Dunque questo DDL rappresenta principalmente il controllo del personale docente. Per questo motivo gli emendamenti devono essere radicali e tali da spostare le assunzioni in un decreto legislativo che vada a faccia il suo corso. L'annullamento, il ritiro di tutto il resto del pacchetto riforma che va sicuramente ridiscusso e ben riformulato. Nel frattempo diciamo che i popolari per l'Italia abbandonano il governo Renzi, perdono altri tre senatori ed effettivamente il governo non ha neanche la capacità numerica di approvare il DDL scuola. Grazie a tutti.